buongiorno a tutti ragazzi oggi vi porto i cinque migliori gadget che potete trovare su amazon in riferimento alla gaming week mi è stato richiesto di fare questo video e pertanto voi li porto allora al primo posto c'è il volante e pedali logitech g29 per la simulazione ovviamente per le auto da corsa un articolo che può essere acquistato in comodo e rate mensili e per il quale c'è un video se volete ve lo faccio anche vedere ovviamente i logiker che sono da sempre considerati una marca migliore per questo genere di gadget quindi al primo posto c'è sicuramente questo per ps4 ps3 o computer vale per tutti al secondo posto messo borderland 3 deluxe edition che ha scontato da 86 euro a 54 99 e quindi uno dei giochi più in voga al momento e solete vi faccio vedere il video anche qui anche questa è per playstation 4 è un'edizione speciale limitata e quindi magari anche per i collezionisti particolarmente innamorati di borderland questo è uno sconto di oltre il 36 per cento al terzo posto ho messo una micro sd ultra 400 giga della sandis che la migliore sul mercato e anche questa scontata di circa un 10 per cento invece di costare 82 costa 75 e per chi fa gaming da cellulare ecco questa è la soluzione migliore perché 400 giga è un'enormità e al quarto posto c'è sempre un mouse della logitech questo scontato quasi al 50 per cento perché da 90 euro a 49 99 ed è considerato questo qui probabilmente il miglior da gaming su piazza e infine l'ultima è una memoria sd ssd della samsung per computer da 250 giga super veloce perché anche se è scontata da circa un 10 per cento la 76 va a 69 e 99 quindi questi sono i cinque articoli che ho cercato di portarvi che sono a sconto per la gaming week e alcune sono offerte del giorno quindi oggi le trovate scontate magari domani non le troverete scontate io spero vi sia stato utile lasciate un commento commentate se volete video altri video di categorie particolari iscrivetevi cliccate la campanellina io vi saluto vi ringrazio alla prossima ciao ciao